Wow! Guarda, Daisy! Il Luna Park! Sai, sembra quasi il parco giochi di Bo! Sì! Eccola lì! Quello lì è un armadillo, Daisy! Un'arma cosa? Un armadillo, Daisy! Gli armadilli sono delle piccole creature molto interessanti che si trasformano in una palla! Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Io sento aria di festa in arrivo, amici!